Davide contro Golia, potremmo sintetizzare così Teramo-Sud di Tirol, quarto di finale di Coppa Italia. I biancorossi proveranno a centrare l'impresa contro una formazione, quella alto-tesina, forte e imbattuta nel girone A della Serie C. Gara unica ad eliminazione diretta con eventuali supplementari e in caso di ulteriore parità calci di rigore. Questo è il pensiero di Federico Guidi che dovrà tra l'altro fare a meno di diversi giocatori Buacchi, Rematenghe, Trasciani, Birrigia, Rossetti, Cucurullo e lo squalificato Bellucci. Dobbiamo concentrarci sul Tirol, sul quarto di finale di Coppa Italia, cercando di fare una bellissima prestazione per raggiungere una semifinale che sarebbe storica per la Teramo Calcio. Davanti abbiamo un avversario straordinario, costruito per vincere, che sta facendo parlare di sé, visto il campionato che sta facendo, affronteremo una squadra che è la migliore difesa di tutti i campionati professionistici d'Europa, una squadra che non ha mai perso e quindi sappiamo che è un'impresa difficilissima. Però per questo per noi è un bel test da giocare, è un bel banco di prova anche per capire cosa sappiamo fare di buono e soprattutto per vedere davanti a questa grandissima squadra se abbiamo capito anche i tanti errori che dall'inizio stagione abbiamo anche commesso. Quindi è un esame a tutti gli effetti di maturità.